Baruffi Cars a Poggi Ridenti Il rilancio della Val Malenco passa attraverso la palla Spicchi. In questa settimana a Caspoggio è prodotto il Denik Camp, il raduno di pallacanestro giunto alla sua sesta edizione, dedicato ai ragazzi dagli 8 ai 16 anni, coadiuvato da un grande campione di questo sport, il giocatore di Serie A Andrea De Nicolao, innamoratosi della località malenca dopo essere stato in ritiro con il Varese. Ho avuto la fortuna di conoscere Andrea Ballan, che mi ha introdotto qui all'interno dell'amministrazione comunale, del consorzio della Valtellina, e ci sono regi subito super disponibili qui nel comune di Caspoggio per ospitarci a fare questo bellissimo camp. Insomma, ci siamo trovati subito molto bene, subito tutti d'accordo per la promozione dello sport e io per venire in questa fantastica location. Allora, insomma, è scattata la cosa, abbiamo provato a organizzare e siamo qui. Location di questa settimana dedicata al basket, il centro zenith della montagna, un'occasione per puntare alla promozione della località dal punto di vista sportivo. È importante, è un programma che abbiamo messo in campo a medio-lungo termine, vogliamo riportare il basket come storicamente c'era a Caspoggio e vedere di ampliare quella che è l'offerta turistica, turistico-sportiva, legata a un discorso di conoscenza del territorio. Per i ragazzi, tanto basket ma anche svariate attività collaterali, tra cui un corso d'inglese, ovviamente incentrato sulla palla spicchi. La settimana sta andando veramente bene, siamo contenti. C'è stato il sole praticamente tutta la settimana, abbiamo fatto fare mattina e pomeriggio degli allenamenti qui al centro della montagna zenith, siamo andati giù al centro per d'ascia a fare l'arampicata, li abbiamo portati alla diga e a Campomoro, al Pegera, a fare un giro per vedere anche i panorami dalle su. Siamo andati anche in piscina, in piscina giù a Chiese Valmalenco e abbiamo fatto anche delle uscite, delle camminate sui ruscelli qui della zona e devo dire che i ragazzi sono stati veramente molto contenti e entusiasti di questo bellissimo posto. La parola d'ordine rimane il divertimento, che può trasformarsi in grande passione, come è successo al campione De Nicolao. Io mi rivedo in loro, quando ero piccolo ho fatto tantissimi di questi camp e sognavo di diventare un giocatore. Adesso lo sono, sto cercando di trasmettere questa cosa che io, questa passione, questa dedizione che ho verso i ragazzi e il lavoro della pallacanestro anche ai più piccoli.